Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laslo, 88, e questa non è una nuova puntata di un luogo, no, allora, oggi vorrei dirvi che questo weekend sono ospite all'Imperia's Grunt, ovvero un evento dedicato al mondo del fumetto che si tiene, indovinato un po', ad Imperia, sì, lo so, il nome non lasciava assolutamente presagire il luogo in cui si tiene l'evento, ma, cazzata a parte, è un evento a cui sono già stato ospite lo scorso anno, sono stato accolto con grande calore, mi sono divertito tantissimo, sono molto, ma molto contento di tornare anche quest'anno, ci sono un sacco di ospiti illustri, l'evento inizia venerdì 4 settembre, ovvero domani, e termina domenica 6 settembre, tra i vari ospiti, ci sono anche diversi fumettisti, io sarò ospite solo sabato 5 e domenica 6, vi lascio in descrizione qui sotto il link al sito ufficiale dell'Imperia's Grunt dove potete reperire tutte le informazioni del caso, come ad esempio il luogo esatto dove si tengono i vari incontri, la lista degli ospiti e il programma completo con suscritti gli orari e i luoghi, per appunto, delle varie conferenze, di incontri, workshop, eccetera. Gli stand con i fumetti li trovate presso la banchina calata G.B.Cuneo di Imperia, credo che G.B. siano le iniziali del signor Cuneo, e io terrò insieme al grandissimo Francesco Gastardo, ovvero il tizio qualunque, due conferenze, una il sabato e una la domenica, sabato alle ore 17, presso la sala conferenze della biblioteca di Imperia, terremo un incontro dedicato ai primi dieci anni di attività di YouTube, perché YouTube quest'anno compie dieci anni, quindi parliamo un po' di come la piattaforma si sia evoluta nel corso del tempo. Speriamo che questo incontro possa interessarvi, vi aspettiamo numerosi, poi una volta finito possiamo anche rimanere a fare due chiacchiere, così vi abbraccio, vi spezzo le ossa, ci vediamo una birra, non so, quello che volete, l'importante è vedersi e incontrarci, perché questi eventi sono un po' una scusa, per incontrare tutti voi che ci seguite alla fine. Poi, sempre sabato alle ore 21, sempre in una sala conferenze della biblioteca, io presenterò l'incontro con Cecilia Randall, che credo molti di voi conosceranno, è la scrittrice della trilogia di Hyperversum, io sono emozionatissimo, perché io sono un signor nessuno che va a presentare Cecilia Randall, capite? Quanto io si è agitato, nello stesso tempo lusingato di questa opportunità, e anche lì dopo l'incontro si può stare insieme, fare qualcosa, fare un giro, andare in un bar, insomma, quello che si vuole. Poi, domenica alle ore 16, sempre presso la sala conferenze, sempre io e il tizio qualunque teremo una conferenza sui fumetti e i cinefumetti, messi a confronto, sarà una conferenza particolare dove io e lui ci confrontiamo, ma comunque io sono più appassionato di cinema, anche di fumetti, ma più di cinema, ma lui invece è più appassionato di fumetti che di cinema, quindi ci confronteremo e vedremo anche un po' di capire come i fumetti si siano evoluti nei prodotti audiovisivi che troviamo oggi, tanto al cinema quanto in televisione. Quindi speriamo che la cosa possa interessarvi, io spero di vedervi in tantissimi, perché ho proprio voglia di stare un po' con voi, quindi vi abbraccio, questo è un'anteprima dell'abbraccio, sentite il calore, ecco, dal vivo sarà ancora peggio, immaginatevi anche proprio il miasma che spiegnerà, una cosa disgustosa, che potrebbe anche non invogliarvi a venire agli incontri, sono un pirla, potete voi evitare di dire, non sto scherzando. Comunque sia, io spero di notare troppo, spero di vedervi, sabato 5, domenica 6 settembre all'Imperia Sgrunt, noi ci vediamo al prossimo vlog, ciao a tutti! Ciao a tutti!